Allora, incominciamo con la scaletta che è necessaria perché i miei video sono molto lunghi, gli argomenti trattati sono molto più numerosi di quelli che riesco a metterne la cover e nel titolo. Il titolo era sulla mia, tra virgolette, intervista a Sebastiano perché è la cosa più originale, insomma non mi era mai capitato di poter intervistare il protagonista di uno di questi casi, ma poi ci sono tanti altri argomenti. Da notare che tra poco entrerò più nei dettagli, mia tra virgolette, perché in realtà è stata interposta persona, tra poco vi spiego meglio tutto. Comunque è vero che domande che ho pensato io, poi alla fine Sebastiano ha risposto. Altri argomenti che ci sono? Beh, si salta un po' di palo in frasca a varie interviste perché per me è sentir parlare i protagonisti si colgono dettagli che non ci sono nei riassunti fatti sui giornali magari, per cui sicuramente guarderò molti più video anche in futuro perché vedo che funziona meglio. Parleremo un po' di quel 30 dicembre che Sebastiano vuole una corda per traino e Gabriele è rimasta molto sorpresa, eccetera. Parleremo, beh ci sono varie interviste, adesso non mi ricordo tutti i dettagli, parleremo anche di una nuova teoria che non avevo mai affrontato perché mi mancavano anche certe informazioni di un'ipotesi insomma che magari assieme all'aspirina fosse stato messo qualcos'altro in quel bicchiere a Liliana quella mattina. Sono davvero tante non me le ricordo neanch'io la scaletta per cui incominciamo e basta. Allora vi spiego meglio la faccenda dell'intervista che è mia, tra virgolette. In pratica in ultimi tempi ho conosciuto, ci siamo scambiati telefonate, eccetera, Nicola Castellano, anche lui uno youtuber e sta lasciando una simpatica amicista, è una persona molto gradevole. Fra l'altro mi viene fuori che lui ogni tanto Nicola sente al telefono Sebastiano Visinti che mi ha creato una grande sorpresa perché appunto per me è una cosa impensabile, negli altri casi non mi era mai successo di parlare con Bossetti o con una certa istruttrice, anche chissà cosa mi avrebbe detto, eccetera, eccetera. Quindi una grande opportunità. Allora che cosa succede? Che ho chiesto a Nicola se per favore la prossima volta che parli con Sebastiano potresti fargli queste domande da parte mia? Perché ci sono alcuni aspetti che non sono riuscito a far emergere dalle interviste, eccetera, pur molti anche interventi televisivi. E Nicola è stato molto disponibile e lo ringrazio tanto, è stato disponibile anche Sebastiano a rispondere, quindi ringrazio molto anche lui. Adesso vediamo tutte e cinque queste domande e le risposte perché secondo me vengono fuori cose anche piuttosto interessanti. Allora la prima domanda era forse l'argomento meno significativo ma era un mio dubbio. Non aveva la fede addosso, no Liliana? Abbiamo fatto mille ipotesi. Io a Sebastiano tramite Nicola ho chiesto in pratica a te risulta che Liliana si togliesse gli anelli come abitudine prima di andare a dormire? Oppure ti risulta quando si metteva a fare lavori con sostanze un po' caustiche così magari si togliesse la fede per non rovinarla? Sebastiano ha detto no per la faccenda di togliersi gli anelli prima di andare a dormire, però sì, a volte poteva accadere quando usava lace, cose così un po' corrosive, di togliersi l'anello. Perché è importante saperlo? Beh perché non aveva l'anello al dito e secondo me questo può essere proprio un segno che l'aggressione sia avvenuta mentre era di mattina presto ancora a fare i lavori di casa. Se lei avesse potuto uscire normalmente si sarebbe rimessa la fede, eccetera. Invece corroboro un po' la mia idea che è successo qualcosa già mentre lei era in casa, mentre ancora faceva i mestieri quindi. La seconda domanda riguarda quel dettaglio per me importante di quel martedì 14 dicembre in cui Gabriella manda un messaggio sul cellulare di Liliana dicendo c'è un regalino per te, vieni su, in realtà poi telefona Sebastiano e dice Liliana non è ancora tornata, eccetera. E in quella descrizione Gabriella in televisione racconta che Sebastiano ha detto puoi venire giù un attimo. Cioè Sebastiano invita Gabriella e poi anche Salvatore a casa sua, in basso, in giù perché è a pian terreno praticamente a Sebastiano. Non so quale piano sono Salvatore Gabriella ma più in alto di sicuro, quindi usano i su e giù in quell'ottica. Ora Gabriella lo racconta come se fosse stato Sebastiano a invitare Gabriella a casa. In realtà Sebastiano ha la domanda che appunto gli ho fatto, ma sei stato veramente tuo a chiamare Gabriella a casa tua? E lui ha detto no, è stata Gabriella e ha detto scendiamo un attimo, cioè si è autoinvitata lei. Ora qui visto che era una telefonata quella che ha fatto nascere poi questo invito a casa diciamo, non potremmo mai sapere con certezza chi ha detto la verità. Però possiamo usare la logica e chiederci chi dei due aveva più interesse ad andare a casa dell'altro, cioè più che altro ad andare a casa di Sebastiano. Secondo me Salvatore e Gabriella perché sono loro che appena arrivati a casa di Sebastiano vogliono vedere il cellulare di Liliana, vogliono guardare in giro, vedere se ci sono biglietti. Sono loro che hanno questa idea in testa, magari giustissima, di iniziare subito grandi indagini. Sebastiano per contro perché mai avrebbe dovuto invitarli a casa sua? Perché era preoccupato, voleva sfogarsi? Potrebbe sembrare logico, ma ce lo dice proprio Gabriella che Sebastiano era tranquillissimo, non ne importava niente. Per un motivo che poi Sebastiano ci ha spiegato, succedeva spesso che Liliana non tornava a pranzo, si fermava con amiche. Quindi dal punto di vista Sebastiano era una giornata come tutte le altre e non avrebbe avuto un grande motivo di invitare giù Gabriella. Gabriella invece aveva tutte queste idee di fare tante cose a casa di Sebastiano. Da notare fra l'altro, visto che ho toccato l'argomento agitazione diversa, molto agitati Salvatore e Gabriella, pochissimo Sebastiano, un aspetto che ha notato e ha sottolineato Nicola, questo qua è un capitolo un po' su Nicola, ve lo dico subito perché l'intervista non ci sarebbe stata tramite lui e molte cose che ha scritto, che ha detto nei suoi video, alcune me le ha dette di persona, mi sono sembrate molto chiare, molto giuste, quindi viene ruolo, ma con il suo permesso. Cioè in pratica lui ha sottolineato un aspetto, mentre Salvatore e Gabriella potevano anche essere, poteva essere giustificato che fossero così agitati, perché loro hanno saputo da Claudio che già dalla mattina non si riusciva più a trovare Liliana, quindi da molte ore Liliana era scomparsa. Ma Sebastiano non sapeva nulla di questo, loro hanno raccontato questo aspetto a Sebastiano, per lui quella è una giornata come tutte le altre, soltanto una di quelle giornate numerose in cui Liliana non tornava a pranzo e sarebbe tornata più tardi. Quindi anche questa è un po' una spiegazione perché Sebastiano non fosse per nulla preoccupato. Tornando all'argomento specifico, comunque cercando di immaginare chi avesse detto la verità, su chi ha invitato chi, Gabriella aveva molti motivi per andare a casa di Sebastiano, perché aveva tutte quelle interessanti indagini da fare, Sebastiano non aveva nessun motivo per chiamare Gabriella, perché lui era tranquillo e di fatti ha raccontato proprio in questa risposta che lui si era sorpreso quando Gabriella ha detto aspetta che scendiamo un attimo e ha pensato vedrai che tu viene per darmi sto regalino, ma quel regalino non c'era, perché era una storia inventata quella del regalino. Quindi c'è questo dettaglio, una diversità, diciamo, affermazioni diverse su chi ha chiamato chi quel giorno. Poi una domanda che devo dirvi subito è stata un po' infruttuosa in un certo senso. C'è la faccenda dei telefoni di Liliana, che sono due, anche questa è un po' una complicazione, poi ne parleremo più avanti, ci sarà un capitolo sul perché avere due telefoni, cosa vende diversi telefoni. Per adesso io invece ho chiesto a Sebastiano, ti ricordi se il telefono di Liliana, diciamo quello principale. Aveva un PIN, una schermata di blocco, potrei dire in modo più dettagliato, oppure no? Da notare che io la domanda che ho dato in modo sintetico a Nicola, che poi lui ha fatto a Sebastiano, ho parlato del PIN e magari ho sbagliato io, perché il PIN è una cosa molto specifica, quando accendi per la prima volta un cellulare se hai impostato un PIN ti chiede quei quattro numeri, se no non puoi usarlo. In realtà io mi riferivo alla schermata di blocco, quando va in stand by il cellulare, si oscura lo schermo, a volte tu puoi impostare prima ovviamente che si blocchi in modo che un'altra persona non lo può usare perché ti chiede un codice o l'impronta o il riconoscimento del viso, ci sono anche le firme e di tutto, oppure lasciarlo libero, che quindi non hai bisogno ogni volta di inserire queste cose, ma anche c'è un piccolo rischio che se capita in mano a qualcun altro può guardarci dentro e fare qualche gli pare. Voi capite perché avevo questo dubbio, perché il colpevole, chiunque sia, è molto probabile che abbia potuto mettere le mani sul cellulare di Liliana. Il dubbio era potrà usarlo o c'è un qualche tipo di io lo chiamo PIN o schermata di blocco che l'avrebbe impedito? Sebastiano qui ha risposto sinceramente non mi ricordo, perché lui probabilmente si riferiva al vero PIN, quello all'accensione del telefono. Da notare invece che Claudio, che gli hanno fatto questa domanda anche a Claudio, ha detto che sì, all'accensione lui si ricordava che Liliana doveva inserire un codice, però non mi interessa molto l'accensione, mi interessava più se nell'arco della giornata si poteva facilmente usarlo senza superare schermate di blocco. Sebastiano non si ricorda, ma a questo punto io lo deduco, non c'era nessun blocco. Eh no, perché se c'era un blocco, lui Sebastiano quel martedì l'ha usato più volte il cellulare di Liliana, ha risposto anche letto il messaggio di Gabriella, quindi sicuramente poteva accederci e si sarebbe ricordato se doveva inserire un codice, che a questo punto lo conosce anche lui. Per cui deduco in pratica tutto questo lungo discorso, deduco che non ci fosse nessun blocco specifico finché rimane sempre acceso e quindi sì, il colpevole avrebbe potuto manipolarlo magari cancellando in modo pulito i messaggi in Whatsapp, che ha avuto magari con Liliana quel giorno, perché non dimentichiamocelo che tu puoi cancellare in remoto, da remoto, un messaggio che hai mandato a qualcuno su Whatsapp, questa è una cosa che mi ha spiegato uno di voi e lo ringrazio, anche se non mi ricordo più il nome, tu riesci a cancellare il contenuto del messaggio che tu hai mandato a questa persona, ma rimane in riquadro il messaggio cancellato, quindi per gli inquirenti sarebbe comunque utile scoprire che Tizio ha mandato un messaggio a Caio a quell'ora. E Tizio non è contento se è colpevole e non voleva far sapere di aver comunicato con Liliana. Magari questa qui è Maddalena perché mi ha fatto gli scherzetti prima, tra poco a zero il telefono e lo ammutolisco. Che dici? Mi sono dimenticato tutto. Però per avere una cancellazione pulita si può farlo ognuno nel proprio cellulare, tu puoi dire questo messaggio che ce l'ho dentro io, capito? Magari ricevuto da altri o che io stesso ho mandato, lo posso far scomparire, non c'è neanche il riquadro. Chiaramente se uno riesce a mettere le mani su tutti e due i cellulari, cancella tutto e non c'è più nessuna traccia di quella comunicazione. Questa è un'ipotesi ovviamente. Da notare che può essere un pochino collegata al fatto delle chiavi di Liliana che non sono state più ritrovate. Probabilmente perché il colpevole le ha usate. A cosa servono le chiavi? Ad aprire le porte. Quali porte? Portone d'ingresso, l'appartamento. Perché il colpevole doveva andare nell'appartamento di Liliana? Solo per chiudere dopo averla portata fuori? Che è un'ipotesi. Oppure dopo si è ricordato che doveva fare ancora qualcosa? Magari andare a cancellare messaggi nel cellulare che era rimasto a casa di Liliana? Sono ipotesi che vi butto lì rapidamente, ma diciamo che era interessante scoprire se il colpevole mettendo le mani sul cellulare di Liliana quella mattina avrebbe potuto cancellare tutta la comunicazione per messaggi che ha avuto con lei. La risposta secondo me alla fine è sì. Non c'era una schermata di blocco dopo lo stand-by. Quindi anche questa è una cosa che emerge un po' da questa analisi. La quarta domanda riguardava i miei dubbi sul suo attacco cardiaco. Si parlava del fatto che magari un grosso litigio poteva causarlo e per me rimane possibile. Però ho voluto fare una domanda specifica a Sebastiano. In pratica gli ho chiesto se lui che ci ha vissuto insieme ai 30 anni ha notato se quando c'erano momenti di stress, litigi, paura, ansia, eccetera, questo dava un po' sul cuore a Liliana, tipo palpitazioni, aritmie, no? Dei precedenti. E Sebastiano ha detto no, che proprio non ricordo una cosa simile. Però ha anche aggiunto una cosa interessante che non è legata in modo specifico al cuore. Ha detto che negli ultimi tempi era piuttosto stanca e aveva problemi di osteoporosi e prendeva spesso integratori alimentari per combattere l'osteoporosi. Tutto questo non lo vedo come un aggancio a un attacco cardiaco. Diciamo che l'ipotesi che un grosso litigio, un grosso stress potrebbe avere causato questo arresto cardiaco per me rimane, perché bisogna vedere quanto grande era questo stress, però secondo me rende un po' più probabile alzare un po' la posta, cioè non soltanto parole e stress psicologico, perché in 30 anni non si era mai notato un problema, diciamo, di ansia cardiaco quasi in seguito a queste cose. Magari anche un po' picchiare, un po' strangolare, un po' cose un pochino più fisiche, diciamo. La quinta domanda. La quinta domanda era molto specifica. Alla fine abbiamo visto che c'è stato questo incontro tra i vicini di casa, a casa di Sebastiano, adesso non mi ricordo più l'ora esatta, 17.40 era, pomeriggio, pomeriggio in oltratto e sembra, secondo Sebastiano, che sono stati loro, sarebbero tra Gabriella, ad autoinvitarsi, Gabriella invece dice che è stato Sebastiano invitarli. Vabbè, rimane quel dubbio. Comunque, io ho fatto una domanda specifica, perché loro avevano detto a Gabriella abbiamo guardato ma non abbiamo toccato niente, proprio l'ha specificato. E io ho pensato ok, però mi sono chiesto ma Sebastiano aveva la possibilità di verificare che non ci fosse nessun tocco? E così la domanda era proprio questa. Quando Salvo e Gabriella erano a casa tua, tu, diciamo, li tenevi d'occhio, erano tutti e due lì, potevi vedere cosa facevano? La sua risposta è stata sbalorditiva, che lui aveva notato già quel giorno che facevano una cosa molto strana. Uno stava a parlare con lui e l'altra persona girava per il suo appartamento, l'appartamento di Sebastiano, dopo un po' tornava, chissà dove era andato, e si dava il turno. Come dire, prima Salvatore se ne va spasso, intanto Sebastiano parla con Gabriella, poi torna Salvatore a parlare con Sebastiano e Gabriella che se ne va in giro spasso per l'appartamento. Ora, questa è una cosa molto grossa secondo me e va a dire un paio di cose. Primo che non possiamo dare per scontato che solo perché l'ha detto a Sebastiano è vero, in quanto ovviamente Sebastiano non è un testimone imparziale, lui è uno dei sospettati, per alcuni il principale sospettato, e quindi con tutto il rispetto bisogna sempre conservare un po' di dubbio. Un sospettato potrebbe anche mentire per gettare colpa a sospetti su altri sospettati, e quindi non è sicuro che sia vero. E questo dubbio lo dobbiamo avere di Sebastiano e per par condition di Salvatore e Gabriella quando ci parlano di borse che appaiono e scompaiono, per fare un esempio, o di Claudio quando ci descrive la sua relazione prima come una vecchia conoscenza che una volta ogni due settimane va stirargli le camicie e poi diventa stava per lasciare il marito a scappare con me, che è un po' diverso e crea un grande sospetto su Sebastiano perché a questo punto un marito che sta per essere lasciato da una donna, da una moglie con l'amante magari la uccide. Sempre avere un po' di dubbio quando parlano i sospettati, quindi in questo caso ovviamente ci può essere il dubbio che Sebastiano ci racconti una storia un po' esagerata, questo fatto che a turno vanno a frugargli un appartamento a sua insaputa. Solo in termini ipotetici, supponendo che fosse vero, voi capite che sarebbe una cosa molto grossa, non fosse altro per la stranezza estrema, è la violazione di tutte le regole di buona educazione, sei in casa ad altri e mentre il tuo partner distrae il padrone di casa tu senza chiedere il permesso infili le porte, vai dentro nelle stanze, il padrone di casa non può neanche vedere cosa stai facendo, è una cosa che io non lo faccio neanche a casa di mia sorella, se devo andare in bagno chiedo il permesso o almeno lo dico, vado in bagno, non sempre chiedo il permesso perché mi lascia quasi sempre andare in bagno, ma almeno dirglielo sì, è stranissimo essere a casa di altri e infilare le porte, le stanze senza dire nulla. Qual è il problema? Il problema è che il mio dubbio era proprio, siamo sicuri che Sebastiano abbia verificato che non è stato toccato niente, diciamo, la risposta supera le mie aspettative, in pratica potrebbero aver fatto di tutto potenzialmente, messo gli oggetti, portato gli oggetti, spostato oggetti, sappiamo anche la borsa che appare, scompare, per fare un esempio. Ovviamente è solo un dubbio, non siamo sicuri che sia del tutto realistica, magari onesta questa spiegazione, questa descrizione di quella giornata da parte di Sebastiano, però ipoteticamente a credergli Salvatore e Gabriele sono autoinvitati, fra l'altro poi ha ricordato anche questa risposta che sembravano un po' sconvolti, Gabriele con gli occhi rossi, anche tutto tirato Salvatore e come delle furie li frugano in casa di tutte le parti e non poteva neanche controllare che cosa facevano in pratica, perché facevano a turno, si davano il turno, uno distraeva diciamo Sebastiano e l'altro girava per casa, se fosse vero sarebbe davvero un comportamento molto strano, quantomeno poco educato, non ha detto che ci sia dietro la colpa, magari lo facevano solo perché erano già sicuri che il colpevo era Sebastiano e dovevano trovare prove schiaccianti, magari si aspettavano di trovare il corpo di Liliana in qualche stanza nascosta in uno sgabuzzino, ma comunque è un po' strano agire in questo modo, ecco quello sì. Allora, rimaniamo sempre un po' in tema di Nicola, nel senso che l'intervista di cui vi ho parlato un attimo fa, le domande le ho fatte io, ma in pratica era Nicola che parlava con Sebastiano, ovviamente Nicola parlava con Sebastiano tante altre volte senza il mio input e una di queste volte è uscita una cosa che per me è davvero molto interessante. Vediamo questo frammento, un video proprio di Nicola in cui ci racconta questa cosa che emersa in una sua telefonata con Sebastiano, sentiamo. Comunque, vedete il collegamento con questa storia di Salvo nasce anche dalle parole dette da Sebastiano. Io poco tempo fa feci una sorta di intervista telefonica a Sebastiano che facendo delle ipotesi mi disse appunto che col senno di poi aveva avuto anche lui modo di dubitare che Salvo centrasse in qualcosa in questa vicenda perché diceva guarda Nicola è strano pensandoci bene che negli ultimi tempi Liliana non avesse più tanto piacere ad uscire in compagnia di Gabriele e di Salvo perché loro erano molto amici, venivano a casa spesso la sera, andavano a fare gite con un reciproco piacere. Poi negli ultimi mesi a dire di Sebastiano almeno quando lo stesso Sebastiano diceva Lilli vogliamo andare qui Lillo diciamo anche a Salvo, a Gabriella gli diceva no ma lascia perdere non è il caso magari è meglio che andiamo noi. Adesso a distanza di tempo lui mi ha confidato che andando a pensarci bene dice era una cosa strana molto strana che lui al momento non non si spiegava non non si è posto il problema poi poi col tempo ha detto ma forse chissà forse chissà allora io posso pensare facendo l'avvocato del diavolo che chissà magari Salvo poteva fare il piacione come si dice poteva avere avuto modo di fare qualche costeggiamento qualche cosa con Liliana che comunque era secondo me di comunque di una grande moralità per cui quando ha capito si è sottratta magari la stessa Gabriella si è potuta accorgere di qualcosa quindi avrà detto qualcosa o al marito o alla stessa Liliana di dire guarda ma io ho visto ho notato e quindi ecco che Liliana è andata sulla difensiva se è vero quello che mi ha confidato Sebastiano. Allora avete sentito ovviamente dobbiamo anche tenere conto l'ho già detto prima le ultime parole di Nicola cioè c'è sempre un po' il dubbio sarà vero quello che ci racconta Sebastiano? Comunque in termini ipotetici sarebbe una cosa un po' grossa fra l'altro vede c'è un retroscena in questo video in questa cosa che avete appena visto di Nicola cioè lo racconto perché appunto non ci sono intrighi misteriosi semplicemente io e Nicola ci sentiamo da qualche settimana non mi ricordo neanche più quando è incominciato che ci siamo sentiti e a volte lui guarda i miei video mi fa delle osservazioni io guardo i suoi eccetera quando avevo fatto quel video che era l'ultimo quello precedente questo delle interviste vintage lui l'ha visto tutto mi ha fatto alcune osservazioni e mi ha detto quando ho parlato del capitolo Liliana voleva cambiare casa ma non per scappare da Sebastiano assieme a Sebastiano dovevano traslocare da alcuni mesi continuava a fare ricerche per un appartamento e io avevo ipotizzato che magari la ragione non era quella che aveva contato a Sebastiano cioè per risparmiare soldi ma piuttosto perché magari non si trovava bene lì e allora il motivo può essere non mi trovo bene con i vicini attuali che doveva frequentare di continuo perché non dimentichiamo ci facevano molte uscite di coppie inviti a cena scambi e questo e quello era solo un'ipotesi ovviamente ma comunque Nicola ha visto quel capitolo e mi ha detto ma sai che potrebbe anche essere vero e mi ha raccontato in anticipo quello che poi avete appena sentito dalla sua stessa voce nel video cioè che una volta Sebastiano in tempi non sospetti oserei dire prima che si parassi sta ipotesi aveva proprio detto che appunto vabbè non sto ripetendo le parole avete sentito no Liliana sembrava poco contenta di fare uscite a quattro mentre invece nel passato più lontano succedeva quando Nicola mi ha raccontato questo mi ha detto perché vacca anzi perché miseria sarebbe da raccontarlo questo in un video e poi lui l'ha messo in questo video solo per il retroscena di come è andata questa faccenda perché è una cosa secondo me piuttosto interessante anche questa allora qui cominciamo il capitolo di si salta un po' di palo in frasca interviste varie che sbucano fuori alcune le ho viste un po' con ritardo io non vi dico niente di dettagliato per ora soltanto l'argomento si parla di Salvatore lui che parla più che altro e l'argomento è che hanno fatto il premio del dna che ha un po creato anche sorpresa all'inizio perché il vicino di casa e appunto gli chiedono che cosa ne pensa di questa cosa eccetera le sue osservazioni sentiamo un po' che cosa dice in una di queste convocazioni ma come persone informate sui fatti le chiedono di sottoporsi volontariamente al dna sì non mi danno spiegazioni mi dicono devi fare il dna io sono rimasto veramente sorpreso ho consentito immediatamente dopo ho cercato di capire per quale motivo avrei dovuto fare questo questo atto perché effettivamente non ho toccato niente non ho maneggiato niente non riesco a capire allora avete sentito all'inizio non ho voluto dirvi niente per non influenzarvi ma adesso ve lo chiedo non avete provato nessuna sensazione particolare nel sentire Salvatore diciamo di scolparsi in quel modo perché non voglio influenzarvi neanche adesso è un dubbio dovete sapere che Nicola mi ha fatto avere il link di questa intervista e me l'ha commentata dicendo dimmi tu se non è clamoroso scritto in maiuscola magari mi ha influenzato ma quando l'ho sentita anche io ho pensato è clamoroso ma perché è clamoroso in fondo sta dicendo che non ha toccato niente non ha maneggiato niente solo che mi è sembrato un po strano l'approccio magari io avrei detto perché dovesse preoccupato non c'entro niente con questo delitto non so neanche chi l'ha uccisa dove quando come lui invece dice una cosa molto specifica non ho toccato niente non ho maneggiato niente per cui il mio dna non sarà su questi oggetti su questa cosa vi dico la verità a me interessa approfondire anche questi aspetti subliminali del subconscio o semplicemente errori in questo linguaggio naturale degli esseri umani trasmettere informazioni cioè vedete la mia domanda è ed è anche quello che chiedo a voi diciamo magari nei commenti scrivete sinteticamente riguarda salvatore mi è sembrato normalissimo oppure mi è sembrato un po strano così un piccolo sondaggio per sapere quanto è diffusa questo stupore o meno a quel modo di difendersi ho approfondito con un'auto analisi perché il problema non è di salvatore è un problema mio e anche di nicola anche lui dovrebbe farsi vedere secondo me e che lui dice non ho fatto niente perché dobbiamo considerare lo sospetto io credo che il motivo sia che quando una persona ci racconta qualcosa noi ci costruiamo un film nella testa cioè immaginiamo proprio questa persona che fa le cose che ci racconta se io vi racconto che una settimana fa quel che è mi sono fatto una pizza di quella surgelata nel forno poi me la sono mangiata davanti alla tv guardando la partita delle azzurre di calcio che è pure andata male eliminate al primo turno voi non avete solo queste parole che vagano nella mente voi vedete me tirar fuori la pizza del forno prima metterla poi tirarla fuori tagliarla a fettone mangiarmi le fettone guardando la televisione con le azzurre è così che funziona la mente umana il problema qual è che quando lui ci dice così di punto in bianco non ho toccato niente non ho maneggiato niente noi ci immaginiamo lui che è con le mani lì così che non tocca niente ma dove ce lo immaginiamo sul luogo del crimine è un errore nostro lui non ha detto di essere stato sul luogo del crimine ma per immagini noi ci immaginiamo lui che fa questa cosa che poi è un non fare una cosa l'unico luogo significativo in cui deve stare attento a non toccare niente oltre qualche negozio di esplosivi è il luogo del crimine ma è uno strano lapso della mente non vuol dire nulla anzi a questo proposito visto come già detto non bisogna pensare male ma anche cercare di pensare bene cioè immaginare una spiegazione innocentista mi sono chiesto perché si è espresso in modo così particolare salvatore e sapete qual è la possibile spiegazione perché lui non ha detto ai lavori 30 anni nei carabinieri sua moglie Gabriele addirittura è stata nella scientifica più come un impiegato civile credo che come tecnico ma comunque grande familiarità con questi ambienti quando tu fai una domanda a un tecnico ricevere risposta un po' diversa è al solito prova con gli amici il telefono è un amico qualunque che all'estero in vacanza gli chiedi com'è il tempo lì e tu dici è caldo così però c'è una bella rietta ok fa questa domanda a uno che fa il meteorologo di professione cioè la testa così ti fa la temperatura percepita è molto più alta a causa dell'umidità nell'aria sono molto preoccupato per le isobare che non so da sono e le c'è l'anticina delle azzorre ma non so dove sono le azzorre c'è capito una risposta strana perché è un tecnico lo stesso può accadere a uno che è un tecnico di dna reperti eccetera lui di fatti è entrato molto nel dettaglio l'unico modo per cui potrebbe esserci il mio dna è se io avessi toccato i reperti della scena del delitto o maneggiato peggio ancora quindi questa può essere una spiegazione una risposta da addetto ai lavori che di prima chito quanto meno a me e nicola è sembrato un po' strano un po' diversa dal solito diciamo sapete vi dicevo che è meglio guardare i video perché sentire le parole anche il tono di voce eccetera da informazioni in più delle sintesi scritte negli articoli e poi c'è un fatto puoi vedere la faccia delle persone questo è un piccolo dettaglio ma osservate che cosa accade quando dicono a Sebastiano una notizia riguardante il ritrovamento del corpo di sua moglie secondo gente che hanno trovato questo corpo in questo contesto così cosa sia successo chi può averli fatto del male ci sono troppe domande capisci che non riesco a trovare risposte il ritrovamento pare sia stato segnalato dal signore dal signor Claudio questo non lo sapevo ecco avete visto c'è praticamente l'urlo di Munch l'urlo di Sebbe no non è urlato ma è rimasto molto molto sorpreso a questo punto chissà se Sebastiano ha capito che in realtà alla fine è venuto fuori stato salvatore a dire a Claudio dove poteva essere il corpo sarebbe rimasto ugualmente sorpreso di meno o di più chissà magari una cosa che Nicola potrebbe chiedere in una prossima telefonata allora un'altra intervista che parla di fatti di cui abbiamo già parlato però è sempre bello sentire i protagonisti parlare no descriverlo con le loro parole qui la faccenda è quella di Giovedì 30 dicembre 2021 in cui di sera Sebastiano telefona Gabriella per chiedere una grossa corda poi dopo diventava importante che fosse proprio il 30 dicembre come sappiamo qui sentiamo Gabriella raccontare quell'episodio con le parole sue sentiamo un po' come lo racconta una telefonata il 30 dicembre telefona Sebastiano a me e dice avete un cavo una corda e dice adesso devo apparare sto qua per la prima roba che dici ma che no insomma di sera si dico ma che ora che ora eh esattamente non lo so io credo intorno alle 9 di sera però che dopo no però guardi era già buio comunque si 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 e gli dico siamo proprio la gialla e dice perché mio figlio è rimasto impantanato è uscito come di strada e la ruota è andata incanalarsi sa della strada non so venga una punetta dove appunto c'è il dislivello è rimasto impantanato là e fa lui chiama il caro Trezzi perché ormai non si può più tirare perché poi ci sono guai fra virgolette amministrativi burocratici con la polizia non si può trainare un veicolo no e poi dico scusa eh ma tu che hai la macchina che è un'officina non hai una corda chiudiamo più tardi mi mi chiama o lo chiamo onestamente non ricordo l'amico di suo l'amico di della Carnia che mi dice la stessa cosa che Sebastiano ha telefonato anche a lui che poi onestamente col seno di poi tipo il giorno dopo mi chiede ma cosa telefona ancora ancora a me perché siamo qua magari dicendo di a messia ma quello della carne cosa può fare lontano geograficamente ma poi dico lui mi dice che questo è successo sul ballone di Gorizia lui è goriziano ha tanti amici e Gorizia chi chiami presumo quello che sta più vicino e noi siamo sorpresi da questa sua richiesta come anche la richiesta all'amico di della Carnia e sembrava non so come se lui avesse voluto dire a noi che quella sera lui sarebbe uscita evidentemente dalla dalla sua abitazione che non fosse in zona non so comunque ha un impegno il 30 di dicembre al buio della sera con il figlio allora 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 abbiate pazienza può sembrare una cosa un po strana ma alle volte io do più importanza a aspetti secondari che quello principale quando uno secondario mi sembra stranissimo in questo caso l'aspetto principale è Sebastiano che vuole andarsene in giro probabilmente per aiutare i figli impantanato con la macchina e quello è l'argomento principale oltre al fatto che il 30 dicembre l'aspetto secondario è quello che Gabriella butta lì con indifferenza poi più tardi sono sentito non mi ricordo neanche se ho telefonato io ho telefonato lui con l'amico della Carnia un amico della Carnia e che mi ha detto che anche a lui Sebastiano mi aveva chiesto l'accordo allora cerchiamo di capire è successo per caso cioè vi rendete conto della probabilità Sebastiano telefona a diverse persone Tizio Caio Sempronio che per quel che ne sappiamo potrebbero anche non conoscersi tra loro ma subito dopo più tardi Tizio telefona a Caio per dire uh mi ha chiesto della corda cioè la probabilità è a livello di affacciarsi alla finestra e essere colpiti qua da un asteroide che ci ha atteggiato proprio quel che ci vuole diciamo no anche per far passare l'emicrania in modo un po' drastico non c'è più la testa non soffri più scherzi a parte accadere per caso no mi spiaggia proprio impossibile la distruzione di tutte le regole probabilistiche c'è un'altra spiegazione le persone fanno in modo che accadano certe cose allora non è più un caso qui mi viene da pensare che Gabriella abbia cercato di verificare se qualcun altro ha ricevuto quella telefonata sulla base di un ragionamento sembra una cosa importante questa di Sebastiano che se ne esce di notte così magari va a fare cose col corpo no potrebbe avere quel dubbio però se lo dico solo io non l'ho registrata la telefonata e la mia parola contro quella di Sebastiano se ci fosse qualcun altro invece avremo una conferma che sia veramente accaduto tenete conto fra l'altro che Gabriella in questa intervista ci fa capire che subito lei è rimasta un po' insospettita da questa strana richiesta è importante notarlo per un fatto che poi diventerà ancora più importante quando si scoprirà con il discorso di Nadia del cane che forse il corpo è stato lasciato il 30 dicembre quindi vedete che bella coincidenza ma Gabriella ce lo racconta in presa diretta diciamo dicendo ricevo quella telefonata e rimango sorpresa no sembrava quasi ci dice che mettesse le mani avanti per dire esco ma il motivo è questo no e sottointeso magari voleva fare qualcos'altro lei poteva intuire visto che lei non gli ha dato la corda che lui avrebbe sarebbe andato avanti a fare altre telefonate fino a trovarla questa corda d'altronde se non è andata così se non è andata Gabriella a fare un giro di telefonata con tutti gli amici comuni come sarebbe andata l'amico della Carnia telefona Gabriella e perché perché Sebastiano ha telefonato per una corda la Carnia non è neanche di Trieste chissà da quanto tempo non vede Gabriella quindi no sarebbe più probabile pensare che Gabriella ha fatto subito un po' indagina questo è un tema ricorrente e va bene la cosa più semplice è che lei sia molto convinta che Sebastiano è colpevole quindi indaga molto anche per conto proprio per trovare le prove quindi fare giustizia e assicurare il colpevole la giustizia che Sebastiano mi va tutto bene volevo solo puntualizzare un po' quella cosa un po' strana della telefonata casuale non ricordo neanche a chi l'ha fatta che è un po' strano perché oltre al fatto che c'era il registro delle chiamate in un'altra intervista Gabriella ci ha detto che il messaggio l'ha mandato le 17.37 perché si era guardato prima ma a parte quello se tu fai un lungo giro di telefonate ti ricordi che sei tu aver fatto le telefonate d'altronde nell'ipotesi che non capisco come possa funzionare che questo amico che della Carnia magari non senti da mesi ti telefona proprio quel giorno per dirgli ehi Sebastiano mi hai chiesto un accordo beh a sto punto ti rimani impresso perché tu diresti accidenti ma porca miseria voglio dire porca miseria l'ha chiesto anche a me eccetera quindi c'era questo piccolo retroscena che dimostra secondo me che Gabriella era subito molto sospettosa e questo va bene ma il segno di acume il segno che vuole indagare che vuole scoprire il vero colpevole l'unica cosa che mi sembra un po' strana e ma se veramente Gabriella aveva quel giorno il sospetto che Sebastiano fosse sul punto di uscire stare fuori tutta la notte per fare cose strane col cadavere perché non l'ha detto gli inquirelli ai suoi amici della polizia dei carabinieri tenete conto che lei ha lavorato per decenni nelle forze dell'ordine come suo marito ha un sacco di amici ex colleghi anche a non voler così pensare un po' di timidezza di essere timida a chiamare l'inquirente principale chiamino di questi tuoi colleghi e dice ma lo sai che c'è qua Sebastiano che mi dice chissà perché che sta per uscire di notte starà fuori tutta la notte e se facesse qualcosa col corpo per bruciarlo per portarlo nelle foglie o chissà per farlo ritrovare magari sarebbe stato fondamentale perché a quel punto gli inquirenti la forza dell'ordine potevano metterlo sotto controllo subito potevano seguirlo fra l'altro visto che quando riceve questa telefonata la corda lei non gliela dà e quindi lui deve ancora trovare la corda prima di uscire arriva probabilmente la polizia ad andare nel cortile e attaccargli un gps alla macchina oppure si mette una pattuglia in borghese senza le insegne della polizia dei carabinieri in via Damiano Chiesa sanno il modello dell'auto quando esce e con discrezione lo seguono e poi possono fare il cambio con un'altra auto ci sono vari trucchetti sono persone esperte lo potevano seguire per tutta la notte e lo potevano sorprendere con le mani nel sacco un sacco dentro il quale ci sarebbe stata magari Liliana il caso risolto ma a Gabriele non è venuto in mente di dirlo ai suoi molti amici della forza dell'ordine se l'ha tenuto per sé e ha cominciato a fare indagini per vedere se aveva detto questa cosa a un'altra persona questo è un pochino strano ma capisco che in certi momenti ci possano essere delle specie di distrazioni diciamo così Allora un'errata courage ogni tanto devo mettere quando dico qualcosa di sbagliato non che si dimostra un po' sbagliato in questo caso è qualcosa di peggio perché ho commesso un errore diciamo a livello deontologico non bisognerebbe fare il quoting selettivo cioè tagliare le affermazioni delle persone dimenticandosi di dire quello che c'è subito dopo che magari cambia tutto il senso del discorso purtroppo mi è capitato di farlo ma per distrazione mi sembrava che il discorso fosse finito poi come sempre della grande maddalena che anche magica altrettutto la magica maddalena mi ha trovato l'intervista completa perché io avevo solo un frammento in effetti e ho scoperto che mancava una parte fondamentale l'argomento qual è un'intervista a Sebastiano in cui gli chiedono se sarebbe disposto a incontrare Claudio e lui dice no e poi dice non so cosa potrei fare fa anche il gesto così con le mani e io ho commentato quello dicendo accidenti qua sembra che Sebastiano dice che forse picchierebbe Claudio e mi sembrava anche preoccupante che non sapesse anticipare cosa avrebbe fatto come dire scasso autocontrollo poi viene fuori la versione integrale in cui c'è un appendice che è importante adesso la sentiamo tutta intera così si capisce meglio sentiamo lui farebbe diciamo un incontro confronto tra voi qui mi è già stato per posto va beh questo immagino ecco mi è già stato per posto lei lo accetterebbe assolutamente no anche perché però diciamo nella sua idea ho paura ho paura ho paura ho paura perché non so che reazione potrei avere potrebbe picchiarlo non farei mai del male a un vecchietto ha fatto di peggio con queste parole diciamo ho capito avete sentito? ok insomma chiamarlo vecchietto non è molto gentile però almeno ci precisa che non aveva pensato minimamente a picchiarlo e quindi si può immaginare che quel dire non so cosa farei intende dire magari non sarei gentile magari direi brutte parole che anche quello non è una cosa da fare tra persone educate ma il dubbio è quello non intendeva picchiarlo era giusto per correttezza deontologica riportare l'affermazione completa e non solo una parte un altro piccolo dettaglio ci sono questi aggiornamenti upgrade quasi su singoli argomenti vediamo questi due brevi frammenti di video su uno stesso argomento guanti l'argomento dei guanti di Liliana sentiamo a un certo punto si è reso conto che abbiamo qua i guanti di Lilli questi sono fuggiati in cucina sul tavolo però ho detto boh li avrei dimenticati queste cose qua insomma perché sono un po' interessanti perché non avevo mai parlato prima dei guanti viene fuori che sono stati ritrovati sul tavolo della cucina mi sembra e non nella borsa e poi viene anche fuori che Liliana era molto freddolosa persino in settembre da settembre cominciava a mettersi i guanti cosa realistica perché le persone molto magre sono meno protette dal freddo con la ciccia diciamo ma vabbè comunque sia era una che amava mettere i guanti li mettevi in settembre e figurati in dicembre perché è un po' interessante perché fa parte del tema quanto è strana l'uscita di Liliana quella mattina e qui c'è un elemento in più si dimentica la borsa lascia a casa i cellulari non si rimette la fede e ora in più anche i guanti che lei mette sempre non si mette neanche i guanti da notare che il dettaglio che i guanti erano sul tavolo è importante perché se i guanti fossero stati nella borsa che ha dimenticato non sarebbe giusto considerarli un elemento in più ma fa parte in modo cumulativo di tutte le cose dimenticate che erano nella borsa invece era proprio a sé stante quindi oltre la borsa giusta oltre i cellulari oltre la fede pure i guanti la mia ipotesi è che lei non sia uscita sulle sue gambe da casa perché se no si sarebbe rimessa la fede i guanti che non mancano mai i cellulari deve andare al negozio win la borsa giusta che la conosce benissimo potrebbe essere aggredita in casa e chi ha cercato di far credere che fosse uscita di casa ha fatto un po' casino ha preso il primo capotto che trova la prima borsa che trova e ha trovato quella vuota e basta e tutto il resto è rimasto lì chiudiamo questo capitolo che è solo per corroborare un po' l'ipotesi che lei non sia mai uscita di casa viva quel giorno allora questa ipotesi mi era venuta parecchio tempo fa beh non tantissimo in realtà quando si è sentito parlare per prima volta dell'autopsia che Liliana aveva preso aspirina, tachipirina quella mattina non ve l'ho mai parlato perché oltre al fatto che complessivamente non mi quadrava tutto insomma non la consideravo neanche io così probabile ma poi avevo delle lacune non sapevo alcune cose fondamentali perché riguardavano aspetti diciamo così di farmaci, di chimica poi che cosa succede? che sbucca Paola, Paola Calabrese che segue i miei video eccetera anche amica di Fulvio è insegnante di chimica, è esperta di farmacologia tra parentesi ho detto nome e cognome perché lei mi ha autorizzato ovviamente se no non direi mai dati troppo dettagliati di solito quando ho saputo che Paola era così esperta di questa materia l'ho visto come un segno del destino perché io non sono un bambino a destino ci credo, cioè praticamente di riprendere quella teoria che avevo pensato tempo fa e ho abbandonato perché mi mancavano informazioni di chimica e di farmaci e così ho chiesto a lei alcune informazioni prima vi spiego qual è questa teoria che non la considero la principale ma una possibilità l'idea di base è di mettere insieme stranezze e anomalie in una linea logica comune piuttosto che trovare strane spiegazioni bislacche per ogni cosa strana meglio una sola che spieghi tutto che rende coerente ogni cosa qua gli elementi strani per me erano due uno che Liliana, una persona che è stata descritta sia dal marito Sebastiano che da non so quale parentesi Silvia o cosa come decisamente poco portata a prendere farmaci invece quella mattina ne prende addirittura due oltre a questo né Sebastiano né Claudio che l'ha sentita al telefono hanno detto che sembrava stanca o malata che avesse detto di avere mal di testa o febbre cose che farebbero magari pensare a prendere l'aspirina o la tachipirina un piccolo mistero poi c'è l'altro mistero che non lo considero inspiegabile ma che deve essere spiegato c'è l'arresto cardiaco a me non convince molto l'arresto cardiaco tutto col così che capita e basta perché 60 anni per alcuni sono tanti per me non sono così tanti e poi vengo a considerare che Liliana non beveva non fumava non era sicuramente sovrappeso aveva un'attività fisica cardiovascolare fantastica magari si stava anche rompendo un po' le palle c'era l'età però tutti questi continui giri in bici il frullino ha ragione molto montuosa cioè il suo cuore era molto allenato abbiamo anche sentito poi dall'intervista con Sebastiano che non ho mai avuto questi problemi di palpitazione, artemia o cose varie per cui ok ho avuto un arresto cardiaco ma che cosa lo ha causato? ipotesi litigio, ipotesi mezza strangolata, mezza asfissiata con i sacchetti tante ipotesi diverse avevo pensato anche a un'ipotesi chimica ma non per uccidere in modo deliberato perché per me questo non è un omicidio premeditato ma per un'altra ragione la mia ipotesi era supponiamo che ci sia un corteggiatore che ci prova da tanto tempo con Liliana ma lei dice sempre no questo corteggiatore può ricordarsi di qualcosa che sanno tutti c'è la droga dello stupro GHB una di queste è ora qual è il punto? la diffusione della droga dello stupro ecco lasciatemi parlare di questo almeno perché magari l'ipotesi che ho non è giusta ma è un argomento da trattare perché è veramente uno scandalo quello che sta accadendo in passato moltissimi anni fa era una cosa da detti ai lavori gente che gravita intorno agli ospedali che hanno scoperto che alcune sostanze che stordiscono possono andare bene per stuprare le donne gliela dai questa qui non capisce più niente puoi fare tutto quello che vuoi ma ormai negli anni recenti la conoscono tutti sta droga ogni volta che ci sono arresti per spaccio di droga cose varie è successa la sorella di Ornella Muti Claudio Rivelli altizio lì coordinatore di non so cosa della Lega leggi l'articolo e viene fuori che trafficava droga dello stupro tra le altre cose è diffusissima nei parti ormai c'è l'abitudine di rovesciare nei bicchi di tutte le ragazze così capito ora visto che è un argomento veramente problematico questo io mi è venuto comunque il dubbio che potesse essere venuto in mente anche al nostro corteggiatore sa che Sebastiano non c'è il martedì sa che tutte le volte che ci ha provato in modo tradizionale è sempre andata male magari ha provato quel sistema perché mi ha fatto venire in mente per l'aspirina eccetera perché di mattina alle 9 del mattino è difficile organizzare un party e offrire alcolici ma magari puoi avere la scusa di fare pressione del tipo ah ma ti vedo un po' stanca così prendete un'aspirina e poi magari mette qualcosa di diverso un'aspirina come il GHB avevo però molti dubbi su questa teoria ovviamente un dubbio è ma può causare un arresto cardiaco il GHB l'altro era non è che viene fuori dall'autopsia quando sbuca Paola io gli faccio queste due domande lei invece di darmi sbrigative risposte a semplificare fa una cosa molto giusta visto che l'argomento è complesso non vuole semplificare ma vuole trattarlo in modo approfondito e la ringrazio molto per questa sua disponibilità mi ha fatto una specie di riassunto quasi un trattato come vi faccio vedere in sovraimpressione una parte di questo documento e poi ha risposto molto gentilmente alle mie domande perché io non sono esperto di chimica per cui dovevo chiedere precisazioni dopo tutte queste discussioni sono andati avanti due o tre giorni alla fine ho l'idea un po' più chiara e vi posso riassumere le conclusioni in pratica mi ha detto che sì può causare arresto cardiorespiratorio più esattamente ed è quando c'è un'overdose quasi sicuro che sia proprio questa la causa della morte il rischio di overdose è alto soprattutto se chi la somministra non è un dottore che conosce bene l'anamnesi e tutto e non commisura soprattutto la corporatura perché non dimentichiamoci che Liliana era molto minuta questo vuol dire che se quest'uomo magari ha già usato in passato la droga dello stupro con magari una ragazzona di 20 anni che pesa 60 chili la stessa dose la dai a una di 60 anni che ne pesa 40 di chili può essere fatale quindi probabilità alta di un'overdose se c'è l'overdose c'è il resto cardiorespiratorio poi c'è un'altra questione verrebbe fuori dall'autopsia perché l'autopsia non ci ha parlato del GHB e della droga dello stupro qui la faccenda è davvero complicata in pratica non è così facile avere un'evidenza chiara se c'è stato un diciamo avvenenamento da GHB per varie ragioni uno il GHB è presente in tutti i corpi perché viene secreto il nostro organismo normalmente secondo è difficile conoscere la dose normale perché ogni persona può avere un livello di GHB diverso e nessuno sa qual è il livello di GHB standard di Liliana per vedere che è salito terzo dopo la morte la fase post-mortem aumenta artificiosamente il livello di GHB per cui lo trovi diciamo un po' quasi alle stelle per il solo fatto che sono passati tre settimane in un cadavere tutto questo fa sì che rimane in pratica un grosso dubbio sul fatto se l'esame tossicologico può affermare con certezza se c'è stata una somministrazione di GHB perché il GHB lo troveranno di sicuro ma non desta allarme perché c'è sempre in tutte le persone e nei cadaveri con un livello anche maggiore probabilmente ci sarebbero state maggiori probabilità di successo in chiave più probabilistica che altro perché la certezza è difficile raggiungerla se avessero fatto analisi mirante cioè con il dubbio proprio non sarà che gli hanno dato l'uomo dello stupro allora fanno analisi adesso non sono sicuro di ricordarmi tutto Paolo mi ha anche parlato di fare prelievi dall'arteria femorale e dal cuore o dalla orta cioè luogo particolare del corpo dove è più probabile trovare tracce mettiamola così non mi ricordo con precisione tutti i dettagli ma è una cosa del genere il punto è se chi fa l'esame ha questo dubbio proviamo a cercare un'eventuale intossicazione di GHB magari lo trova di sicuro di GHB ma magari capiscono che può essere stata una overdose di GHB se non c'è questo input iniziale da un esame tossicologico generico non hai nessun elemento che ti faccia pensare di GHB lo trovi ma lo troverai sempre in ogni persona e ancora di più in un cadavere per cui concludendo tutto questo lungo discorso questa ipotesi non c'è nulla che la smentisca in modo categorico potrebbe essere davvero che l'arresto cardiaco sia dovuto a una overdose di droga dello stupro e come muovente se qualche corteggiatore quando va sempre male fa questo tentativo e potrebbe aver usato il trucco di darle un'aspirina per scioglierle dentro questa sostanza da notare comunque che Paola mi ha anche detto una cosa che proprio non sapevo ed è molto interessante da dire che la droga dello stupro non è insapore GHB praticamente è un sapore un po' salato per cui diciamo è importante da sapere al di là del discorso di Liliana state attente voi donne voi ragazze al bicchiere tenetelo sempre d'occhio perché posso mettervi dentro di tutto è davvero diffusissima questa droga dello stupro e poi se sentite un sapore di sale che non dovrebbe esserci questa bibita quello che è smettete di bere perché a maggior ragione è una cosa sospetta tornando comunque nell'argomento specifico del caso di Liliana diciamo la verità questo sapore salato va un po' in contraddizione con la mia ipotesi di partenza di usare l'aspirina o la tachipirina come scusa per far bere a Liliana questa cosa perché a questo punto non mi risulta che l'aspirina e la tachipirina abbiano un sapore specifico sano di bollicina ma perché sia effervescente per cui probabilmente si accorgerebbe sarebbe il caso semmai di mescolarla con altre cose come integratori alimentari che pure prendeva come sappiamo a caso dell'osteoporosi si era detto Sebastiano per cui insomma tutta questa ipotesi ce l'avevo nella testa ringrazio ancora Paola per aver fugato un po' questi miei dubbi avevo dato anche informazioni utili su questo aspetto rimane un po' il dubbio secondo me non c'è nulla che lo escluda categoricamente rimane una vaga possibilità magari noi potremmo sapere qualcosa di più quando gli inquirenti al termine delle indagini danno un quadro più specifico diciamo di tutti questi esami tossicologici eccetera e magari a quel punto chiamerò di nuovo l'amica Paola a darmi una mano a leggere quei dati a dirmi se questi dati possono confermare o smentire quella teoria allora a volte succede che ho bisogno di rivedere o ripensare a qualcosa una seconda volta per capire che è importante la prima volta così me la faccio passare davanti agli occhi senza che mi solletichi la mente di cosa si tratta? si tratta dei messaggi che Claudio ha cancellato dal suo smartphone della chat di Whatsapp che aveva con Liliana e che ha mostrato in televisione ma quei messaggi non c'erano quelli non si sono mai visti si sono notati invece altri messaggi cancellati in sequenze in tempi diversi uno era quello dei vaccini chiamiamolo così che era del giorno prima dove si parlava anche di Bill Gates se trovo le immagini vi faccio vedere le differenze che aveva scoperto Darken un altro youtuber poi però c'è una cosa curiosa che lui quel giorno Claudio ha bombardato di messaggi Liliana tutta la mattina e mezzogiorno fino a luna ma li ha cancellati tutti ha lasciato solo il primo quello in codice ciao amore mio buongiorno con le iniziali perché ha cancellato quei messaggi io avevo parlato di questo solo per dirvi che non è molto affidabile quello che vediamo sul cellulare di Claudio perché cancella i messaggi ma non pensavo ci fosse uno dei sospetto perché poi ho scoperto il contenuto di quei messaggi in quanto sul cellulare di Liliana che aveva in mano Sebastiano non c'erano ancora e Sebastiano li ha portati quando va via la luce tra poco li ha portati agli inquirenti che li hanno registrati li hanno messi anche in un documento li hanno fatto firmare qua si vede non troppo bene devo dire la ricostruzione di questi messaggi perché è un po' sfocato non sono stato io al quarto grado che l'ha mostrato così comunque un po' si riesce a leggere e io anche io ero riuscito a leggere il contenuto e quando ho visto che era un contenuto per nulla sospetto ho pensato boh strano sapete quando uno dice strano ma non vedevo nulla di sospetto però puoi ripensarci proprio perché non c'era nulla di brutto perché non mostrarli vedete c'era la possibilità per esempio che in quei messaggi ci fosse qualche brutta parola no? che può succedere un po' si arrabbia dice porco qui porco là che non è bello da far vedere in televisione o magari che avesse trattato un po' male Liliana brutte parole come dire perché non vieni allora sarebbe stata una spiegazione no? non vuole con Liliana morta praticamente perché penso che l'avesse già trovato il cadavere quando mostra per la prima volta il cellulare in televisione li avesse tolti per quello no? ma quali sono? qual è il contenuto di questi messaggi? ca cam ciao amore mio o am amore mio spetem 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 cioè voi capite? è una brutta parola spetem spetem ok alcuni di voi voi di sud non potete capire il dialetto del nord e mostro a spiegarvelo io spetem vuol dire aspettiamo riflessivo noi aspettiamo 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 ma voi capite che il tono spetem spetem non è di uno arrabbiato e non è il solo neanche brutte parole perché non lasciarli perché toglierli tutti poi ho capito ci sarebbe stata una bella differenza a mostrarli perché Claudio in un'altra intervista che però mannaggia adesso questo video non ce l'ho ma se vi serve se avete il dubbio lo posso cercare sicuramente Maddalena lo troverà Claudio dice che lui si allarma allarme rosso dice alle 10.30 circa in allarme rosso è molto agitato e in effetti sembrano ecci delle conferme perché poi va la wind poi come sappiamo va addirittura fino sotto casa di Liliana entra nel suo cortile verso mezzogiorno qualcosa quindi molto agitato però poi che cosa scopriamo da questo documento che alle 13 qua prima viene messo il testo e dopo alle ore in cui è arrivato alle 13 qualcosa perché qua c'è anche un dito che impedisce di capire 13 che cosa poco dopo la sua visita nel cortile di Liliana lui manda un altro messaggio a Liliana che è proprio quello del spetté spetté e qui mi dispiace ma io do importanza all'aspetto psicologico ditemi voi se una persona sconvolta impaurita talmente sconvolta che di lì a poco andrà in Slovenia in uno stato estero a cercarla manderebbe un messaggio così a Liliana spetté 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 un messaggio così abbonario scherzoso è di uno un po' infastidito per questo ritardo perché ti ha dato buca in pratica è quello il discorso poi io non sto contestando il fatto che possa essere logico non essere spaventati può avere un senso la donna che una volta in due settimane viene a stiare le camicie e dice che viene poi non viene ti ha dato buca si chiama così non è che chiami la polizia insomma però Claudio ci ha raccontato una cosa diversa ci hanno detto che era molto preoccupato già dopo i 10.30 ci dice che si mette a fare i giri per cercarlo ovunque alla Wynn sotto casa sua poi va in Slovenia e manda questi messaggi Liliana aspetta aspetta non lo so ditemi voi non sarà che magari un po' incoerente che uno che manda un messaggio così non è molto spaventato e probabilmente non andranno in Slovenia a cercarla ma quello non voglio neanche parlare della Slovenia perché quello succede più tardi e può darsi che la sua preoccupazione aumenti col passare del tempo però il fatto che lui alle 13 dopo essere già stato alla Wynn e essere andato sotto casa di Liliana sembra così tranquillo da di aspetta 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 mi lascia un po' perplesso mi sembra un po' incoerente l'emotività che ci ha raccontato con quella che traspare dei suoi messaggi e questo può essere una spiegazione perché li ha cancellati prima di andare a trasmissione perché si sarebbe capito che non era poi così spaventato fra l'altro un'ultima piccola sfumatura lui alle 13 è qualcosa perché 13 è un dito insomma qua c'è il dito quindi dopo essere andato in una cortina di Liliana manda il messaggio aspetta 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 e non fa il minimo accenno al fatto di essere stato sotto casa sua scusate ma anche questo non è molto logico se tu sei molto preoccupato perché non trovi questa amica la cerchi in tutta la città e vai fino a sotto casa sua e aggiungo io anche se lui non l'ha mai detto probabilmente suona il citofono per vedere se risponde passa ancora mezz'ora mandi un messaggio a questa persona e non gli accenni minimamente al fatto che sei preoccupato e che sei andato fino a sotto casa sua magari dice anche ho suonato il citofono ma non mi ha risposto ma dove sei? immagino io no? niente lui va a casa di Liliana e dopo un po' manda un messaggio a Liliana e non c'è il minimo accenno al fatto di essere stato lì al punto che per trovare una spiegazione logica mi viene da pensare che lui non sia andato realmente a casa di Liliana ma a casa di Salvatore Gabriella perché abitano lì vicino sono attaccati questo a livello mentale può avere un senso se lui fosse andato lì non per cercare Liliana e questa è un'ipotesi fantasiosa perché non abbiamo un elemento per dirlo ma per esempio dai Salvatore Gabriella lo hanno chiamato dicendo vieni qua dove hanno detto una cosa per dire no? lui va lì per trovare Salvatore Gabriella magari va anche a casa loro non lo so se ha dimenticato di raccontare questa parte non si sa a questo punto ha un senso che dopo lui pensi cos'è che stavo facendo ah sì mi ha dato buca a Liliana aspettate che le mando un altro messaggio aspettate aspettate e non accenna il fatto di essere stato lì perché in realtà lui non è stato lì da Liliana è solo un caso che abita lì vicino è stato da Salvatore Gabriella è una mia ipotesi ma sto cercando di capire perché nel messaggio delle 13 non accenna il fatto che pochi minuti prima fosse stato sotto casa di Liliana che è un po' strano una piccola vicenda ma che comunque mi fa venire un po' un dubbio ma siamo sicuri che Claudio fosse davvero molto spaventato quella mattina? probabilmente l'ho diventato dopo perché chiaramente quando il tempo passa e continua a non trovarla aumenta la preoccupazione però fino alle 13 sembra piuttosto tranquillo secondo me allora il tutto complice questa è una cosa un po' così ironica quasi ogni tanto bisogna fare argomenti un po' più rilassanti cioè tutti a chiedersi chi può essere il colpevole in questo caso così intricato ma diciamo la verità se tu pensi a un colpevole per coerenza dovresti anche immaginare anche il complice del colpevole abbiamo già detto che sembra molto probabile che ci sia un complice perché non fosse altro portarlo lì in quel boschetto eccetera eccetera ma anche solo fa scomparire per settimane il corpo e gli occhi di tutti e sarà stato in pieno giorno che è successo non credo che sia rimasto di sera comunque sia tenendo conto che poi di sera erano tutti i sospettati Salvatore Gabriella perfino Claudio e Sebastiano l'inquestura capito quindi noi abbiamo molto tempo di andare in giro anche se non tutti erano dentro l'inquestura in quel momento il punto qual è? viene da pensare oltre a un colpevole anche al possibile complice e allora qual è per ogni possibile colpevole il complice più ragionevole? per esempio per Sebastiano colpevole sappiamo che recentemente c'è stata l'ipotesi un po' sponsorizzata da certi video di Edra che potrebbe essere Fulvio la testimonianza della donna sconosciuta che è rimasta sconosciuta insomma beh sappiamo tutti il nome ma io non so chi sia che semplicemente dice secondo me potrebbe essere andata così con Fulvio e Sebastiano Alleati poi c'è Gabriella che ha detto però lei non si sa che fosse Gabriella solo la voce sembrava la sua che potrebbe essere stato che appunto Liliana quella mattina avesse incontrato Fulvio e quindi si crea un po' di collegamenti con Fulvio ma il sospettato principale secondo me era Sebastiano perché in effetti Sebastiano non ha tutti questi amici e mettiamola così insomma quelli che aveva hanno avuto un comportamento un po' ostile nei suoi confronti e quindi c'era quel dubbio se fosse Sebastiano il colpevole ma chi è il complice c'è questa ipotesi secondo cui poteva essere Fulvio io fra l'altro ho sentito Fulvio proprio per sentire come si discolpa l'abbiamo già parlato in altri video ma su un argomento specifico gli ho chiesto ma Fulvio tu Sebastiano prima del 14 dicembre lo conoscevi bene lo frequentavi andavate al bar insieme anche lui vegetava al bar con te vi scambiavate messaggi telefonate la risposta è stata completamente negativa in pratica lui si ricorda di un lontanissimo incontro nel 2015 che è stata la prima volta che l'ha incontrato praticamente dopo lo rincontrerà un po' più spesso dopo il 14 dicembre dopo i fatti ma prima del 2015 dove fra l'altro c'è stata questa foto che vi faccio vedere che è una bella foto di Fulvio con Liliana che fra l'altro Fulvio mi ha detto che è l'unica foto che ha di lui insieme a Liliana e fra l'altro a scattarla era a Sebastiano ma questo è stato l'unico incontro dopodiché il nulla dal 2015 ovviamente uno può non credere a Sebastiano a Fulvio perché io non vi dirò mai che queste persone sono assolutamente attendibili ovviamente sono persone un po' coinvolte per cui potrebbero anche mentire ovviamente eventuali analisi dei tabulati faranno capire se si sono telefonati spesso o meno sembrerebbe mai praticamente prima del 14 dicembre anche i frequentatori del bar potranno ricordarsi se hanno mai visto Sebastiano con Fulvio quindi diciamo l'ipotesi Fulvio come complice di Sebastiano mi sembra veramente assurda proprio completamente accampata in aria io personalmente credo che sarebbe più logico immaginando un complice il figlio legame di sangue allora magari lo aiuta anche se chiede aiuto a lui capito? quindi per Sebastiano io vedo di più il figlio di Sebastiano come complice se fosse Claudio chi potrebbe essere il complice? probabilmente probabilmente Salvatore perché quantomeno dopo il 14 dicembre sono frequentati di continuo già quella sera in questura si sono telefonati eccetera cioè davanti alla questura è stato Salvatore a suggerire a Claudio di andare a dire a tutti gli inquirenti e altre altre cose è stato Salvatore a dire a Claudio di andare agli inquirenti a dire che il corpo magari poteva essere cercato in quel boschetto quindi andavano in piscina insieme eccetera poi abbiamo visto anche quanto si conoscono per cui a meno di non ci sia qualche altro super mega amico di Claudio che a me è sfuggito se è Claudio colpevole viene molto da pensare a Salvatore ma se fosse Salvatore l'altro con il test del DNA perché qui la facendo è un po' complicata si potrebbe far ricambiare diciamo il legame dicendo Claudio però è anche sposato c'è Gabriella in casa è possibile che lei non ne sappia niente sarebbe Gabriella il complice o Claudio o tutti e tre vabbè tutti e tre un po' troppo comunque c'è questo dubbio più che dirvelo perché che ne so vi sto dicendo le ipotesi per me se è Sebastiano incolpevole il complice è il figlio se è Claudio il colpevole il complice è Salvatore se è Salvatore il colpevole c'è un po' di dubbi se è Gabriella o è Claudio tutti e tre tutti e due mi sembra un po' troppo comunque più o meno questi sono i legami che secondo me emergono ho cercato di parlare più veloce più veloce del normale perché non volevo fare due video separati e cerco di non farlo lunghissimo ma credo di aver superato comunque un'ora ma adesso siamo nel capitolo finale e non lo chiamo neanche a conclusione sto pensando invece appunto agli incoerenti loro hanno qualche dubbio qualche sospetto in specifico sospettano più di qualcuno piuttosto di qualche altro hanno qualche strategia qualche asso nella manica oppure stanno solo aspettando di dirci che è stato un suicidio che viene archiviato tutto io non lo so vi posso dire però che come ipotesi secondo me loro potrebbero avere qualche persona più sospettata di altre ma che cosa possono fare se non hanno una prova schiacciante una strategia potrebbe essere questa allogorante attesa cioè in pratica che loro non indagano nessuno ufficialmente addirittura spargono queste voci che giornalisti che bazzicano intorno alla procura continuano a dire la tesi privilegiata del suicidio che è molto strano vista la dinamica di questo presunto suicidio per farli stare tranquilli ma qual è il punto che vedete dato che qua si è parlato appena nel capitolo precedente del fatto che è quasi sicuro dai che non c'è un colpevole solitario c'è un complice che l'aiuta sono due persone due persone sotto pressione che vorrebbero parlare di questo fatto per studiare contro misure magari per dare la colpa a qualcun altro e venire a pensarle tutte ma comunque non fosse altro per sfogarsi ma non possono parlare per mesi da mesi non possono parlare perché quando è che parlano? al telefono supponendo che non vivano vicino non possono perché è ovvio che tutti i telefoni sono sotto controllo dei sospettati a casa inviti a casa reciproca nemmeno si mettono le microspie in casa è una cosa conosciuta in auto nemmeno si mettono le microspie anche in auto cioè secondo me c'è questa possibilità che gli inquirenti abbiano imbottito di microspie tutti i luoghi delle persone sospettate e magari in modo particolare di qualcuno una coppia magari di sospettati il complice è il colpevole principale e aspettano come dire prima o poi dovrete parlare dovrete tradirvi cioè in pratica è chiaro che queste persone che ci saranno no? perché qualcuno è stato insomma non è morto per causa naturale Liliana stanno attente stanno attente a non parlare ma siamo in luglio sette mesi senza poter parlare tranquillamente non lo puoi fare in casa non lo puoi fare in macchina non lo puoi fare al telefono e che cazzo stanno diventando matte è una lotta a una guerra di nervi proprio e allora viene da chiedersi che cosa possono fare queste due persone che vorrebbero sfogarsi un po' parlando tra loro di questo caso di vedere vediamo se riusciamo a farla franca ma non possono mai rilassarsi per me la cosa più probabile è che debbano proprio parlare tra loro ma sanno bene perché lo sanno tutti che il rischio di telefoni sotto controllo microspie eccetera è alto e allora vanno in posti particolari quali sono i luoghi migliori per non farsi intercettare mi ricordo uno di voi non so se era più Francesco che parlando del fatto che Claudio e Sebastiano fossero andati a parlare in piscina ha detto però in piscina sembra quasi che avessero paura di essere ascoltati come dire la gente lì è mezza nuda per cui è difficile uno col microfono nascosto insomma se non nasconde lo slip a sto punto e si vedrebbe un microfono indirezionale già perché avevo dimenticato di dire che non c'è solo la casa la macchina e il telefono che possono essere sottocontrollati ma anche per strada tu te ne vai in un bar per la prima volta per cui non hanno messo il microspie in anticipo sei lì seduto al tavolino con questo amico complice non importa a 100 metri c'è uno col microfono indirezionale e sentono i tuoi respiri quindi nemmeno per strada nemmeno in un locale possono stare tranquilli per me l'unica cosa da fare più ancora della piscina che al limite un microfono indirezionale si può nascondere in quelle borse che ci si porta dietro per cui non è proprio sicuro per me sarebbero fuori all'aperto boschi prati magari sempre diversi come posti cioè si esce dalla città si va in un bosco nuovo dove non sei stato prima si lascia lì la macchina si lascia lì la macchina si lascia lì i cellulari perché anche i cellulari diventano microspie si possono mettere dentro dei software nel cellulare che diventa come una microspia lasci lì tutto e vai a fare un centinaia di metri o più nel boschetto che non è quello famoso dello cp dell'ospedale psichiatrico a quel punto finalmente possono parlare e io me li immagino queste persone a farsi questi giretti nei boschi disperate perché non possono mai parlare rilassate non lo dico perché è interessante sarebbe anche questo un modo per avere un indizio in più se gli inquirenti seguissero anche un po' gli spostamenti di queste persone se ci fosse una coppia di amici eccetera che se ne va sempre più spesso nei boschi a parlare per me sarebbe un indizio un indizio ulteriore comunque sia al di là se riusciranno o meno a farla franca secondo me questa faccenda se la ricorderanno a lungo perché questo stress questa lunga agonia durata mesi che dura ancora senza potersi mai rilassare un attimo secondo me ha fiaccato parecchio questa persona anche perché non è nemmeno sicuro che terminate le indagini potranno rilassarsi e se magari qualche micro spiera avessero lasciata anche per dopo un po' Grazie a tutti